ciao ragazzi bentornati sul mio canale siamo qui con carmine la luna che ha fatto il primo posto sicuro abbastanza quattro pudding il cercano del masso 4 per ospero la carta che vuole sempre vedere pudding fare tutto intero spero anche se partì prima sempre fortissimo trigger più forte della storia è un piccolo magellar la gente non lo attacca perché altrimenti pesca una carta un po come magellar 4 sanji blogger un altro per ospero che parte da blogger 4 che d'azzo sono i mezzi mazzi agro è fortissimo contro l'u contro però betti contro zoro spacca sembra qualcosa e se non spacca niente comunque un counter mille quindi ci va bene lo stesso quattro satori counter 2000 che anche trigger quindi abbiamo 12 trigger 5 mila che entrano di trigger 3 shirooshi aggiunta oggi la terza infatti è brutta non ti piace la canterai anche perché sono d'accordo ho provato tre perché prima giocavo più counter 2000 ma tre mi hanno abbastanza convinto due enel vincolo da soli contro sakazuki vincolo da soli con sakazuki tre katakuri ti risolvono tutti i pezzi a 8 che ci sono nel formato e sono tanti abbastanza ore si giovane di più no sono abbastanza gioco già troppe carte non counter 2 yamato perché quattro mamme non mi bastano e quattro mamme non gioco mamme a set non gioco mamme a set perché risco gli enel perché odio far scegliere l'avversario devo sempre devo essere sempre io a scegliere cosa devo fare con le vite degli avversari ok poi ci sono altri 3 blocker 3 blu red trigger altro trigger fortissimo non serve neanche scartare carta 4 counter 2000 che contro alcuni nazi agro si giocano per tappare pezzi e per attaccarli quattro capone carta che vince da sola le partite spiegate ma ti vince ancora di più obbligatoria al termine 3 thunderbolt se ne trigger i due in finale sono forti e due amaro che insieme ai thunderbolt vincono le partite contro salato una bella forte 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 vabbè niente qualche ringraziamento ringrazio il maestro alessandro salino ok ok e basta vabbè pure a me potresti ringraziare ti ringrazio ok ragazzi questa era la lista ci vediamo al prossimo video ciao